Una giornata ricca di appuntamenti, quella di domenica scorsa che come da programma della pubblica assistenza Procivis, protezione civile, ha visto riversare in città numerose associazioni di volontariato. Un appuntamento annuale che approda l'ottava edizione, curato nei minimi particolari dalle componenti della Procivis, che ha lasciato un segno positivo importante a Gela, ma soprattutto un ricordo indelebile ai tanti volontari arrivati dalle diverse province siciliane. Il censimento dei volontari e la simulazione in Piazza Calvario ha contrassegnato l'apertura della manifestazione, suscitando l'interesse da parte di tutti. Una conferenza regionale partecipata in cui il Dipartimento regionale della protezione civile della regione siciliana ha annunciato una rivoluzione, rimarcando come da tema del dibattito i seguenti punti, la prevenzione, la comunicazione e l'attenzione. Alla conferenza erano assenti l'Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Gela, nonostante la partecipazione dei funzionari regionali e provinciali. Al termine della conferenza, il responsabile della pubblica assistenza Procivis, Luca Cattuti, ha voluto rimarcare l'importanza del volontariato, consegnando a otto bambini una maglia della protezione civile, affinché il gesto sia l'impegno e la continuità nel volontariato per le prossime generazioni, un gesto molto apprezzato dai funzionari presenti. Come da tradizione, la sfilata, tanto attesa dai volontari, che con gonfalori e mezzi di soccorso, assieme alla preziosa partecipazione delle unità cinofile di Ragusa e equestre di Piazza Almerina, hanno raggiunto la Chiesa Madre, una lunga sfilata divenuta un'attrazione per tutti, nonostante la pioggia. Grande la collaborazione dei commercianti, che con grande spirito di condivisione della festa e di collaborazione con la struttura Procivis, hanno addobbato le proprie vetrine, esponendo palloncini e oggetti tricolori a tema. Una manifestazione articolata che, visto anche la partecipazione delle auto d'epoca, dell'associazione Valvole e Pistoni, è la mostra di quadri in Via Cadorna, allestita dal direttore artistico Croci Attardi. La messa, celebrata dal cappellano militare Don Pino Terranova del Comando Militare Esercito Sicilia, in ricordo delle vittime del terremoto, è stata animata dalla corale polifonica Perfetta Letizia e ha avuto la presenza delle varie autorità militari e del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Gela, con la partecipazione del popolo gelese e dei tanti volontari che si sono radunati in Chiesa Madre. Al termine della messa, una fiaccolata per le vittime del terremoto si è snudata lungo le vie del centro storico, raggiungendo Piazza Ladrepio, dove un cero è stato deposto dalla responsabile della struttura ai piedi del santo protettore. Un momento toccante, quello del lancio dei paloncini e del suono delle sirene che, oltre a contrassegnare questo momento di riflessione, ha avuto il suo termine con il suono del silenzio.